Start, 2, 1, missione e liftoff! Si tratta di un gioco dove dovremo rimettere a posto un hotel ereditato con nostra sorella dal nostro nonno e una volta messa a posto le varie stanze le affitteremo e dovremo provvedere alla pulizia della stessa camera. Io ho sistemato adesso come vedete questa stanza così come vedete le altre, questa la devo sistemare, questa l'ho già sistemata e questo è l'aspetto molto elocchitti della camera. Tra l'altro questa camera è affittata attualmente, oh la signora mi scusi, camminano sempre un po' in punta di piedi per non fare rumore o per non sporcare il pavimento però dovete fare attenzione perché quando loro lasceranno, c'è anche il tempo che scuola in alto a sinistra, vedete che avete le prenotazioni quindi dovete avere la pulizia sempre al massimo in modo da far trovare tutto ai vostri clienti, tutto a posto. Qui la nostra sorella che amministra la storia e vabbè la cosa non realistica è che la gente entra in un hotel del genere, cioè arriva qui prende una stanza, paga anche 200-150 a notte però insomma è dura diciamo da credere come cosa. Ora abbiamo una missione un po' particolare perché abbiamo affittato una stanza al signor Vlad, la creatura della notte, ovviamente questo tizio che è ovviamente Dracula anche dal nome rumeno che ha e lui ci ha chiesto una stanza nera tutto in nero e rosso senza specchi e con delle tende scure alle finestre in modo da non far entrare la luce. Prima di lasciarvi, mentre io distruggo tutto e vi faccio vedere tutto alla fine del lavoro, vi faccio vedere i tool, c'è la scopa che praticamente va a pulire le macerie quando noi demoliamo qualcosa. Stessa cosa se avete i mobili, i mobili si sollevano momentaneamente permettendovi di vedere quello che c'è sul fondo. Dopodiché avete la possibilità di rompere, quindi la rottura riguarda sia i mobili che le pareti. In questo modo. Quindi potrete distruggere. Qua avete la possibilità di scegliere, ma quello lo vedremo dopo, i vari tipi di arredamento. Mentre invece dopo la prima missione tenendo premuto vi farà sia posizionare i pavimenti e le pareti su una larga superficie, sia rompere tutto su una grande superficie anziché farlo punto per punto. La cosa bella è che quando pitturate una parete non dovete farlo a tratti come succedeva su House Flipper, ma lo fate tutto. Vabbè, ve lo faccio vedere dopo, insomma. Intanto stiamo distruggendo tutto perché il gioco è guidato nella creazione. Ci dice, demolisce tutte le pareti, tutte le decorazioni delle pareti, le vecchie tappezzerie, insomma le vecchie piastrelle, per poter piazzare le nuove. Una volta che avevamo piazzato le nuove, messi i nuovi pavimenti, inizieremo la fase di arredamento che anche essa è piuttosto guidata, cioè ci dice cosa mettere. Poi starà al nostro gusto mettere qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Insomma adesso io ho rotto anche il soffitto, ma sto cercando di fare tutte le parti. Le parti più tediose sono queste qui intorno alle finestre. e perché vanno proprio tutte, vedete che adesso io posiziono qui, rompo lì, tengo qui più o meno a metà, pian piano si allarga la zona di influenza e andiamo a distruggere tutto. Ora io vi rimando, diciamo, faccio attendere un secondo, cioè per voi sarà istantanea la cosa, e vedremo come va avanti. Questa è una missione che io ho già fatto, tra l'altro, ed è parecchio complessa, perché probabilmente non avevo capito bene le meccaniche e quindi avevo già in realtà registrato il video, ma ho deciso di rifarlo perché voglio provare a, voglio impegnarmi e capirci di più per quanto riguarda questo titolo. Quindi ci rivediamo tra pochissimo. E ora andiamo a vedere, una volta fatto tutto, come si sistemano le cose. Intanto ho visto che ci sono ancora dei dettagli qui, quindi li puliamo subito. Allora, lui vuole delle tende, ma vuole soprattutto dei tende, candele e sfumature di nero e rosso. Quindi proviamo a mettere i pavimenti e per i pavimenti vediamo che cosa c'è. Ci sono tappeti, ci sono altro, ci sono ceramiche. Mettiamo, vediamo i tappeti, tipico degli alberghi. Vediamo se c'è qualcosa, no, perché ho sbloccato dei pavimenti rossi nella scorsa missione, quindi possiamo vedere se c'è effettivamente qualcosa. Perché quando noi posizioniamo qualcosa, quel qualcosa ha una certa qualità. Quindi io ho visto che ho sbloccato dei pavimenti rossi, ma onestamente non so dirvi. Vediamo se c'è Ada, c'è dell'erba. Ci sono le tiles ceramic, ma io voglio mettere il tappeto. Il tappeto, la moquette fa molto, fa molto anni passati insomma, però linee, riga, tappeto per bambini, triangoli uniformi. Vedete che non mi piace. Forse col tab poi andate a mettere i colori. Però sapete che non... Questo è piastrelle righe, piastrelle medie, piastrelle piccole. Possiamo mettere questo. Col tasto Q possiamo metterlo, diciamo, a tutta stanza in modo da non farlo. Però non c'è il nero. Mannaggia. Vediamo se c'è dell'altro. Piastrelle piccole. Rosso. O nero. Vediamo, no, purtroppo no. Continuiamo a cercare legno. Legno rosso non c'è, credo. Continuiamo a vedere se c'è qualcosa di estremamente colorato, ma magari non a righe. Se c'è qualcosa di... Tappeto standard, ok. Vediamo se c'è rosso. Eccolo qui. Cambia qualcosa? No. Lo mettiamo, lo mettiamo, lo mettiamo, lo mettiamo e lo mettiamo. Quindi la stanza adesso, vedete che viene posizionato tutto il pavimento e quindi il pavimento è a posto. Ci segnerà adesso il 100%. Ci manca questa zona qui, questa zona qui e questa zona qui. E poi il tappeto sarà tutto rosso. Questo lo possiamo andare a distruggere. Ok, il pavimento è a posto. Il pavimento è il 98% in realtà. Sì, perché manca questa zona qui. Quindi andiamo a riposizionarlo di nuovo dello stesso colore. Perfetto. E ora andiamo a fare le pareti. Le pareti vediamo come funziona. Praticamente le pareti le possiamo piazzare o a vernice o con grafiche, pattern e ceramica. Vediamo il pattern. Vedete che ci sono queste cose. Ma non credo che ci sia anche qui un discorso di piastrelle piccole. Andiamo a mettere la vernice. Vernice, possiamo scegliere i vari colori. Vedete che o possiamo puntare tutta la parete o pitturare gradino per gradino oppure pitturare a mano. Allora, voglio dare un'occhiata quale di questi ha il colore nero. Sono delle divisioni di colore un po' così. Voglio trovare quello che ha il nero. Qui sono tutte sfumature di giallo. Ok, nero, così. Nero grafite. Posiziono. Facciamo tutte le pareti interamente così. Questa sarà una stanza che stiamo facendo per il conte Vlad. Una stanza assolutamente assurda. Però facciamo che il soffitto, vabbè, che ci siamo. Perché poi arriva una delle parti che ho trovato più complesse in questo inizio, poco chiaro, di gioco, dove dobbiamo mettere l'arredamento come ci dice lui. Quindi bisogna mettergli una candela, bisogna mettergli del mobilio di un certo tipo, di colore nero. Ed è molto bello anche la possibilità di personalizzare l'arredamento. Infatti, se si fanno vedere degli screen su Steam, le stanze sono veramente molto, molto varie, molto belle come realizzazione. Ok, adesso la stanza è buona. Ora, si vanno a piazzare i mobili. Allora, l'entrata è qui, il letto io lo metterei qua. Quindi, la cosa interessante è che veniamo guidati nel posizionamento degli oggetti. Quindi, in questo caso, è tutto guidato, andiamo in ordine. Vedete che sono già messi in ordine, in base, come li vedete, lì sulla destra. Mettiamo un letto. Il letto, vedete che ha, in basso a sinistra, in quella barra, le varie stelline di arredamento. Quindi, noi dobbiamo metterlo, possibilmente, di due stelline. Quindi, in questo caso, mettiamo, vediamo se trovo qualcosa. Queste due stelline. Vediamo, facendo space la modifica, possiamo andare a scegliere il colore. In questo caso, lo mettiamo nero. Un letto singolo mettiamo. Sicuramente non andrà bene, però ci proviamo. Mobiletti. Quindi, mobiletti, mobiletti, vediamo perché. Avevo trovato un tre stelle, prima, mi sembra di averlo visto. Ok, questo è un tre stelle. No, una stella. Una stellina. No, sono tutte cose che non possiamo mettere. Quindi, mettiamo, quelli che mi indicano con una stellina, gli mettiamo questo comodino qui. Facendo space andiamo a modificare, lo mettiamo liscio. Lo mettiamo liscio in modo da poterlo fare completamente nero. Uno e due. Perfetto. Ora dobbiamo mettere un tavolino. Il tavolino. Un tavolo, anzi, scusate. Lo mettiamo qua nella saletta. Lo mettiamo anche questo, completamente nero. Tre stelline. Che ci aumenta la media. Ora dobbiamo mettere due sedie. Le sedie io prendo queste. Sì, dai. Prendo questa. Vediamo se c'è una personalizzazione di colori. E nero è la colori. Non si scappa. Lui vuole tutto nero. Quindi. No. Non voglio demolirla. Acquisto. Vado a rimetterla. In modo che... Ok. Spazio. E modifichiamo. Ravenna zero. Colori. Nero. E mettiamo due sedie. Che poi mi sembrano blu, ma... No. Vabbè. Poi per i moelle succede sta roba qui. Ok. Ok. Continuiamo con... Il posizionamento seguendo l'ordine. Quindi abbiamo messo due sedie. Mettiamo il divano. Il divano io lo metto nero anch'esso. Lo metto magari qui. Lasciando un po' di spazio. Sempre nero. Mettiamo un tavolino. Tavolino lo mettiamo... Colorato di nero. Presumibilmente sì. Questo è nero. Poi. Vedete che intanto in alto a sinistra aumenta. Perché come dice... Dobbiamo portare la qualità a 2,0. Poi abbiamo una poltrona. La poltrona... Vediamo se riusciamo a metterla. Prima di tutto... Di due stelline. Se... Sempre che ci sia. Una stellina. Una stellina. Queste sono tutte bloccate. Queste da 2. Ok. Perfetto. La mettiamo. Modifica colore nero. E le vuole nere. Ok. Poi. Probabilmente se ne mettiamo un'altra probabilmente sale. Infatti siamo 1,3. Andiamo bene. Poi un armadio. Un armadio di questo tipo. Lo prendiamo con una buona valutazione. Quindi così. No. Così. Così. Sembra di due stelline. Quindi di qualità. Anche se fa un po' caghera. Lo coloriamo anch'esso liscio. Di nero. Questo è nero. Non è nero. Ma questo è nero. Mettiamo l'armadio lì. Ok. Qua adesso stranamente non è salita la valutazione. Probabilmente non è nero abbastanza. Comunque. Dobbiamo mettere delle mensole adesso. Mettiamo delle mensole. Mensole possibilmente da tante stelline. 1,2. Vediamo se c'è anche da tarea. No. Mettiamo le mensole. Così. Così. Moderne. Space. Lisce. Colori. Nero. A me non sembrano nere. Ma va bene. Adesso mi viene il dubbio. Fammi vedere se c'è un nero. Così. Ok. Abbiamo completato tutto. Ora bisogna fare il bagno. Il bagno anch'esso lo faremo a tema. Quindi. Si è sbloccata la parte. Diciamo dei sanitari. Questa qua. Blu. Mettiamo una vasca. La vasca. La piazziamo. Così. Due stelline. Perfetto. La mettiamo qua in fondo nera. Rigorosamente. Però vedete che in questo caso. Io non capirò mai il motivo. Scende la valutazione. Non so il motivo. Ma non. Non va. Cioè. È scesa la valutazione. Non è. Non è giusta. Non gli piace. Quindi proviamo a vedere se. Riusciamo a metterla. Di un altro tipo. Una vasca così. Scende. Anche con questa. Probabilmente. Non è la zona giusta. Quindi. Continuiamo. La mettiamo magari. Un trogolo. Così. Uno stile. Così. Sì. Questo rimane pari. Quindi. Potrebbe essere una buona idea. Farla. Così. Tre stelline. Modifica. Colori. E la facciamo nera. Perché gli piace nera. Ok. Sì. Sì. Qua sale. Mi piace. Mi piace molto. Poi. Dobbiamo mettere un WC. Il WC. Il WC. Lo mettiamo da tre stelline. Nero. Colori. Nero. Completamente nero. Qua in fondo. Un lavandino. Così. Un lavandino sospeso. Una stellina. Vediamo se c'è da due. Questo è da due. Così. Vediamo se c'è nero. Sì. 1.4. Ottimissimo. Possiamo mettere due armadietti. Adesso. Mobiletti da bagno. Quindi io ne metterei uno così. No. Questo è valutato pochissimo. Vediamo se c'è qualcosa di. Eh. I più belli sono valutati. Oh. Questo è valutato due. 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 Questi niente. Questo è valutato due. Anche questo. Quindi questo qua mi piace. Lo possiamo mettere qua. Nell'angolino. Tuttavia. Liscio. E di colore nero. Per il nostro counter lad. E questo scende. Non piace. E questo io onestamente non lo capisco. Comunque. Non piace. Va bene. Allora metteremo un altro mobiletto. Questo è valutato due. Scende anche con questo. Adesso io voglio fare la prova. Perché onestamente questa è una cosa che io non ho capito. Anche nella partita che ho fatto prima. Cioè. Il mobiletto non piace nero. Se io lo facessi. Scusate. Rosso. Vi piace di più? O scende comunque? Bisogna fare. E non c'è neanche rosso. Ok no. Rosso c'è. No. Scende comunque. Sono mobiletti del pifero. Che non servono a niente. Niente. Mettiamo qualcosa. Un mobiletto che sia qualcosa di elegante. Allora. Tipo. Mobiletto. Che costi tanto. Ma. Così? Gli piace così? Vecchio stile? Spazio. Liscio. Nero. Sì. Così piace. Così dicono. Ne metto anche un altro. Sempre di questo stile qui. Un po' rustico. Lo metto qui. Sempre. Cambiando. Posso modificarlo. Facendo spazio. E gli dico di farlo. Nero. No. Devo andare. Prenderlo in mano così. Space. E lo facciamo nero. Ok. Sì. Infatti è salita adesso la cosa. La cosa strana di questa missione. Che non c'entra niente con la storia. È una critica che faccio. È quella che poi mettere un botto di oggetti uguali. Per far salire la valutazione. Comunque. Continuiamo. Abbiamo accessori da parete per il bagno. Vediamo se c'è qualcosa di valore. Ma non c'è niente che valga. Granché. Maniglia. Porta asciugamani. No. Di gran valore non c'è niente. Asciugamano. Possiamo. No. Qua non c'è assolutamente niente. E poi gli mettiamo i radiatori. Se ci sono. Eccoli qua. Radiatori. Questo è salito. Vedete. Adesso. Posso andare un po' a barare. Facendo. Questo. Vabbè. E poi abbiamo. Gli accessori da bagno. Che sono i bicchieri. La tazza. Il disinfettante liquido. La carta igienica. Ok. Ora si va a mettere le decorazioni. Quindi. Prima cosa. Le decorazioni sono all'inizio. Quindi si inizia a mettere. Roba. Aspetta. Queste. Decorazioni. Dobbiamo metterne quattro. Di queste decorazioni qui. Manichino in legno. Buddha. Stato a forma di teste. Non c'è la configurazione. Questa vale. Non capisco. La lanterna. Lanterna modifica. Non c'è nulla. Non sale neanche. Come. Come. Come valore. Quello delle accessorie. Un totem. Inquietante. Che mettiamo qua. Nell'angolino. La statuetta con corna. Diciamo. Mettiamo qui. Ok. Quattro accessori li abbiamo messi. Poi mettiamo. Decorazioni a parete. Qualcosa di. Di molto scuro. Quindi. Questo. Poi gli possiamo mettere. Altre cose molto buie. Molto oscure. Vediamo se c'è qualcosa. Una rete da pietre. Cioè. Le possibilità sono. Assolutamente infinite. Mettiamo anche questo quadro. Possiamo mettere una piantina. Una piantina. Una palma. Vediamo se c'è qualcosa che vale un tot. Questa. Ok. Lampade. Lampade. Così. Sì. Sì. Vabbè. È caduta. Ma va bene. Lo stesso. Lampade da parete. Due. Dobbiamo metterne. Quindi una qua sopra. E ne mettiamo una sopra la scrivania. Ok. E poi abbiamo i lampadari. Lampadari che. Le plafoniere. Che possono darci diverse soddisfazioni. Una. Due. E poi magari per il bagno. Se c'è qualcosa di più. Di più bello. Questa. Ok. Noi tecnicamente. Abbiamo preparato. La stanza. Però. Dobbiamo portarla a qualità. A due. Ora. Mancano le tende. Quindi andiamo a. Posizionare le tende. Che dovrebbero. Gli specchi non ne vuole. Vediamo se ci sono tende da qualche parte. Dovrebbero esserci. Eccoli qua. Dobbiamo prendere delle tende nere. Colori nere. Ok. Uno. Due. Uno. E due. E. Dopodiché ci ha chiesto anche delle candele. E. Delle candele. Io onestamente. Non so dove siano. Perché sotto speciali. Adesivi dimostrativi. Parti. Tecnologia. Non. Non c'è niente. Dovrebbe essere nelle decorazioni. Nelle decorazioni. Nelle decorazioni. Troviamo delle candele. Vaso da fiori. Vasi da fiori. Biscottiera. Piatto. Bicchiere. Coltello. C'è un botto di roba. Dogana. Cos'è dogana? Vabbè. Dovremmo trovare anche delle candele. Calice. No. No. Onestamente. Collezione di libri. Molto bella anche questa. Perché. La collezione di libri. Può. Si può impilare. Nelle varie cose. E aumentando un po' la valutazione. Della. Della cosa. Ecco. Il porta candele. La candela. Siamo a metterne una. Che è quello che ci chiedeva. Porta candele. Porta candele anche lì. Porta candele anche qui. Ma onestamente. Siamo ben lontani dalla valutazione. Ecco. In realtà. Ho faticato tantissimo. E alla fine la stanza è diventata così. Disseminata di questi mobili antichi. Per aumentare il valore della stanza. Questa è una cavolata. Secondo me. Perché il tipo qui. Vabbè. Ha i colori. Ha le tende. Ha le candele. Come voleva. Però ho dovuto aumentare il valore con questi oggetti. E va bene. A questo punto concludiamo l'ordine. Ci fa vedere com'era prima. E com'è dopo. Cambiato parecchio. Insomma. Non è invadente. Diciamo. Anche se ci sono un sacco di mobiletti inutili. È una suite. Costa 500 al giorno. Una serie. Ma è un magazzino. In sintesi. Però va bene. Chiediamo la porta. Intanto andiamo a vedere. Vedete adesso qua. In questa stanza. Possiamo. Mamma mia. Il nostro Vlad ci ha appena detto che la stanza non è quella che si aspettava. Però dice. Però vedo che avete una cantina. Posso darci un seminterrato. Posso darci un'occhiata. E vabbè. È andato giù. E adesso lo seguiremo. Comunque questa è la pulizia della stanza. Vedete che i mobili si alzano. Che è comodissima come cosa. Ora dobbiamo scendere. Andare giù. Vlad. Andiamo. Vabbè. Lo troveremo già giù. Come vedete adesso siamo nel corridoio. Quindi una stellina a punto 2. E qua ricomparirà. No. Nostra. Presumo sorella. È andata via. No. Eccola qui. È ricomparsa. Questa è la stanza dell'ufficio. Che va sistemata. E questo è il seminterrato. Ora dobbiamo trovare una cassa vuota. Apriare la cassa. E trovare l'oggetto misterioso. L'oggetto speciale anzi. Che io onestamente non so dove sia. Ok. L'ho preso. A questo punto arriverà anche Vlad. A breve. Presumo. Quello che io ho sbagliato. E che io ho buttato via tutto l'interno. Compreso l'oggetto speciale. Quello è stato un po' una cavolata che ho fatto. Ora demoliamo tutto il contenuto della cassa. Perché la cassa verrà docchiata da Vlad. È un uniforme a fattore. Interessante. L'istintivo dice errore. Il nome del nonno. Ok. Questa cassa è molto più comoda nel letto. Penso che resterò qui. Pagherò la camera. Naturalmente non si preoccupa. Grazie per la comprensione. Ok. Vlad decide di dormire qui. Questa è una cosa che secondo me era inutile. Però è simpatica. Chiudila almeno. Bene. Abbiamo preso due piccine con una fara. Mentre lo stanno ospite da Romero. A casa è un nuovo ospite. Può leggere nella camera 103. Abbiamo raddoppiato i nostri guadagni. Perfetto. La camera che io intendo rifare totalmente. Qua ci sono i cimeli che abbiamo trovato in giro. Quindi la lettera che ci ha mandato il nonno. Insomma è così. Possiamo anche acquistare poi il martello per aumentare la distruzione. L'aspirapolvere per lavorare meglio. Il robot per la pulizia automatizzata. Insomma di figate ce ne sono tante. Il gioco promette assolutamente bene. Per quanto sia ancora bagatello. Aggiungi supporto per microfono. Aggiungi chitarra elettrica. Lampada studio. Di videocamera. Ok. Nella hall bisognerà adesso rimetterla a nuovo. È bello perché qua abbiamo anche la sala da pranzo. Che poi sistemeremo. C'è anche la zona piscina. Il bar. La personalizzazione è davvero ottima. Quello devo dirlo. Non so quanti piani siano. Perché ci sono un piano sicuro. Più altri due. Con l'ascensore non disponibile. Bisogna arrivare al ranking. Però è un po' assurdo. Che ci sia una roba del genere. E si apre comunque l'hotel. Diventa una sorta di. Abbiamo una camera. Però non guardate il resto dell'hotel. Per il resto. Sembra anche un gioco carino. Al netto dei bug. Fatemi sapere anche voi. Che cosa ne pensate. Qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo. Un prossimo video game play. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao.